È stato un vero successo sportivo e di pubblico il Motorbike Expo Round di Spoleto, penultimo appuntamento 2024 del Virus Power campionato italiano velocità in salita, che ha visto scendere sul tracciato della Forca di Cerro, oltre al tricolore, anche l'europeo, anche se quest'ultimo solo nella giornata di domenica. Tanti i piloti che già nella tappa Umbra hanno conquistato l'alloro tricolore con una gara di anticipo, ma andiamo con ordine scorrendo i risultati dell'epoca. Nel gruppo 5, la TT 2 e mezzo, ha visto Nicola Fongaro su Cagiva vincere entrambe le giornate. Alle sue spalle Mario Dolfi e Paolo Marchetti il sabato e ancora Mario Dolfi e Andrea Orselli nella gara domenicale. Emo Antinori Petrini, Spoletino Doc, ha trionfato in sella alla sua Ducati nella TT Sport in gara 1. Sul podio con lui Emiliano Giardini e Jacopo Vettori. Proprio Giardini, in virtù del crono di 1 minuto 12 secondi e 93, ha registrato l'assoluto dell'epoca. Giardini, su Kawasaki, ha centrato poi il primo posto in gara 2, precedendo Emo Antinori Petrini e Jacopo Vettori. Giardini, ancora una volta, in virtù del crono di 1 minuto 12 secondi e 62, ha registrato il miglior tempo dell'epoca. Antonello Rossi su Honda e Pierluigi Mutti su Suzuki si sono divisi equamente i primi posti nella Two Strokes, protagonisti con loro Thomas Pazzaglia, che alla guida di una Suzuki 2 e mezzo ha conquistato per due volte il podio. Alessandro Baldessari ha fatto il suo il primato nella Titi Queen nel primo giorno di gare spolettine, mettendosi alle spalle Giuseppe Violano e Dino Porretti. Proprio Violano si è rifatto la domenica, vincendo e avendo la meglio su Alessandro Baldessari e Dino Porretti. Il gruppo 4 epoca classe standard ha segnato i trionfi di Andrea Orselli e Vegno da Frassini. Sul podio anche Renzo Pratesi, Alessio Porretti e Salvatore Calabrese, mentre nei Sidecar doppio primo posto per l'equipaggio padre e figlio Ovinia. In gara 1 Eugenio Lanzoni su Triumph ha primeggiato nella classe 675 della Crono Climber. Alle sue spalle Daniele Tuzzi su Honda e Leonardo Magrini su Ovale. Alessandro Ferrara ha vinto invece la 1350, secondo e terzo posto per Luca Salvadori e Raniero Giusti. La domenica invece nella 675 si è imposto Leonardo Magrini. Sul podio con lui Francesco Mureddu e Gianluca Girotto, mentre nella 1350 vittoria per Raniero Giusti su BMW. Secondo e terzo posto per Alessandro Ferrara e Simona Castelli. Le moderne del virus Powell CWS hanno aperto le danze con la consueta classe entry, dove dopo il successo di Isola dell'Iri si è ripetuto anche a Spoleto il giovane Gabriele Rea, che in sella a Stosvi ha colto una bella doppietta regolando Daniele Fritz e De Venuele Gratta. Proprio Fritz si è confermato già dal sabato ombro campione italiano 2024 di categoria. Il dominatore della Under a Spoleto ha un nome e un cognome, Christian Lolli, che in sella alla Moto3 del Cecchini Racing Team ha fatto la voce grossa conquistando 4 mangi su 4. Sul podio con Lolli, Daniele Stolli, che in sella alla sua Yamachina, ha conquistato anzitempo l'alloro tricolore. Due volte, terzo assoluto, Marco Lombardi su Morivati. Ci incontriamo ogni domenica, insomma, quando si corre al Civ, ti ritrovo ogni anno che aspetta fa la wake up, ma ragazzi, Christian, ma in salita vai veramente, veramente forte. Beh, sì, dai, me la cavo abbastanza bene. Mi piace, anche come tracciato molto bello e cerchiamo di migliorare sempre di più, come abbiamo fatto dall'anno scorso a oggi. e prossimo anno cerchiamo di starci sempre e mo' sto dicendo se fare anche l'ultima Volterra, così ci divertiamo un po' e cerchiamo di lottarci per l'assoluti. Allora, ti dico, l'anno scorso sei venuto e ci avevi già stupito perché era andato molto forte, ogni giorno miglioravi. Quest'anno, io, vabbè, tu sei pilota di Spoleto, motoclass Spoleto, insomma, sei tra le pareti amiche di casa, però hai fatto sette qualcosa, hai fatto, hai abbattuto la barriera dell'otto, cioè con una moto tre, ve lo ricordo, qui il tempo l'hanno fatto, i mille, i seicento, i supermotard con piloti del mondiale, cioè una prestazione che forse, forse non ti aspettavi neanche tu un tempo così. Beh, sì, sicuramente, ho fatto sette e quattro e è molto buono, per la moto che ho, molto molto buono. Settimo assoluto, mi sembra, ottavo, non so genere, ma vabbè, ci siamo. Categoria mio, primo e vabbè, con una mano dietro le spalle, dai. Oh, ha disintegrato la categoria Under, Lolli, lo odieranno Stolli, Federigi e compagnia, ma bravo davvero e veramente, incrocio le dita per ritrovarti anche a Volterra perché tra l'altro devo dire che non solo vai forte, ma è anche spettacolo, perché lui guida da pista con la gamba fuori, staccata, fantastico, sei il numero uno, Lolli, bravo, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti, grazie. È giornata di incoronazione a Spoleto perché ovviamente con due mangi alla fine, quelli di Volterra, si cominciano a delineare quelli che sono i campioni del 2024, tra questi, ma in realtà doppio campione, c'è Daniele Stolli che ti porta a casa, con due mangi d'anticipo che non fa mai male, il tricolore Under e l'Europeo 300. L'Europeo 300, esatto, due campionati in un solo anno, non mi era mai capitato, felicissimo, è stata una faticata, c'è la due categorie, vincerle in Europa, in Italia, dai, alla grande, sono contentissimo. Poi devo dire una cosa, adesso qui a corso Christian Lolli che viene dalla Moto3, giovane, un proiettile, conosci la moto, però te col 300 comunque fai dei bei tempi, eh, col 300 no? Sì, 13 e 2. Non hai la corporatura di Lolli, perdono, cioè sei bello piazzato. No, beh, abbiamo una differenza di peso, penso, sui 100 kg con la moto, perché la sua moto pesa 60, la mia 140, più c'è la differenza, non parliamo dell'età, vabbè, no, contentissimo, dai, è stata una bella stagione. E poi, dovete sapere, sì, va bene, la 300, però da casa, però mi fai anche il millone, mi fai. Oggi quarto nell'europeo e quarto nell'italiano, a meno di un secondo dal terzo, per cui pian piano arrivo. Il terzo che diciamolo chi è? Davide Lignite, cioè voglio dire, non è l'ultimo di... L'icona, l'icona per me del campionato italiano. Salvadori ha vinto, dietro c'è Piva, che è un veterano, Lignite, per quello ti dico, ti vedo bene in quella categoria lì. Ho fatto pochi chilometri, ma sono contento dei tempi. Bravo Daniele, anzi, bravo doppiamente, bravo Daniele, bravo Daniele. Grazie, ciao. La Naked Advent ha eletto Stefano Manici quale vincitore delle gare del sabato e della domenica. Manici non solo ha regolato un Marco Giovannoni su Ducati e Jacopo Vettori su Aprilia, ma ha centrato, con due mangi di anticipo, anche il suo 22esimo titolo italiano. Manici, veterano della salita, ha così coronato la sua stagione 2024, dopo che nel 2023 la corsa verso il titolo si era bruscamente interrotta a Isola dell'Iri, quando era rimasto vittima di un incidente durante le prove. Era stato un anno difficile il 2023, però direi Stefano che con questo 2024 un po' di interessi li abbiamo recuperati, perché oggi qui alla Forca di Cerro a Spoleto vittoria in entrambe le manche, sia sabato che domenica, e soprattutto è arrivato il 22esimo all'oro tricolore, un record assoluto, che sarà peraltro difficile anche battere. Io credo che sia il giusto sollievo psicologico dopo un'annata difficile come quella dell'anno scorso. Sì, l'anno scorso è stata un'annata no, ma su 30 anni ci sta una no. Però mi sono messo lì, mi sono messo a posto, pian piano le prime gare ho faticato, perché quando smetti, cadi, a 20 anni è una cosa, 50 è un'altra, però pian piano ho ripreso in mano il gas e oggi ho cominciato ad andare, su me è stata una bella gara, è bello questo titolo, molto bello, non riesco mai a dire quello, quello e l'altro. Questo ha il suo valore, perché sono rientrato, tutto l'anno che ho sofferto, come ti dicevo, ho un problema all'anca, una calcificazione mi fa un po' dannare, non riesco a stare in moto, dovrò curarmi, perché dovrò farlo anche per la vita normale, quindi lo facciamo, così staremo meglio anche in moto. Devo dire, tra l'altro, un titolo è combattuto, perché a fronte di una serie di vittorie incredibili che hai ottenuto, devo dire che Giovannoni da una parte, la New Entry, Jacopo Vettori dall'altra, gara dopo gara hanno chiuso un po' la forbice di distacco e ti dico, comunque te l'hanno fatta sudare anche qui a Spoleto. Assolutamente, ci sono anche gli altri, quindi è giusto così, insomma. No, anche perché, sai, anche le moto, ormai vedo questi Ducati vanno fortissimi, mi è capitato di provarne uno, la mia moto va benissimo, però è nel 2016, l'elettronica nel 2024 ha fatto passi da gigante. Bisognerà pensare anche a quello, magari. Per difendere il titolo bisognerà pensare anche a quello e tra l'altro, giustamente, l'occasione lo richiedeva, c'è stato anche il casco celebrativo bellissimo con il 22 tricolore. Bellissimo, bellissimo. E' stata una sorpresa. Una grande sorpresa, sì, grazie. A chi lo dedichi, Stefano, questo 22esimo titolo tricolore? Sai, io lo dedico sempre alla mia famiglia che mi segue, mi permette tutto questo. Mi aiutano, sono là che caricano, smontano tutto, quindi già, io non posso, che devo dedicarlo a loro. Un po' anche a me stesso, perché ho fatto qualche momento un po' così, dai, quindi un po' anche per me. Quindi ci aspettiamo adesso, mi dicevi forse Volterra per questioni fisiche, forse adesso non si sa. Volterra penso, Volterra penso che ho un bisogno di impegno, farò correre Luca Pioli con la mia Triumph, quindi penso che verrò in versione di team manager. Però ti aspettiamo, credo, nel 25 sempre in Naked Avan. Penso proprio di sì, ormai guarderemo con che moto, ma perché mi piace dopo due o tre anni è giusto mettersi in gioco, quindi se sto bene, se torno ad essere a non patire male, molto volentieri, sarà ancora lì. Bravo Stefano, orgoglio italiano delle corse in salita, bravo. Grazie, grazie. Nella Supermoto, con la vittoria di domenica, Carmine Matarazzo si è assicurato l'ennesimo titolo italiano di categoria. Il Campano ha trovato a Spoleto un valido avversario in Luigi Domenichini, che nella giornata di sabato, in sella alla KTM del team VM Racing, ha siglato con il crono di 1 minuto 6 secondi e 05 l'assoluto delle moderne. Sempre a podio, nel fine settimana casalingo, il rider locale Daniele Tuzzi. Nella Super Open 600, Manuel Dalmolin su Triumph ha vinto gara e campionato nella giornata di sabato, precedendo i velocissimi Loris Guerrini su Kawasaki e Giorgio Mi su Yamaha. Manuel Dalmolin, dopo i titoli conquistati nella Supermoto e nella 300, ha così arpionato con merito e quattro omaggi di anticipo il titolo italiano della 600. Domenica, prima meritata vittoria nella 600 per Loris Guerrini, che ha fatto il suo colprimato, mettendosi alle spalle Giorgio Mi ed Edoardo Rea su Honda. Luca Salvadori ha incassato altri 100 punti nella Super Open 1000, battendo nel weekend Francesco Piva e David Linite. Salvadori, in virtù dei punti conquistati, se le ha oreato campioni tricolore con due magi d'anticipo. Il rider milanese non si è accontentato di vincere, ma Domenica ha anche siglato, con il crono di un minuto, 5 secondi e 48, l'assoluto di giornata, siglando anche il record della Spoleto Forca di Cerro. Allora, campione con due magi d'anticipo, il primo anno, il debutto, c'è la maglia celebrativa chiaramente bellissima, un tempone perché c'è anche l'assoluto, è il record, chiusura in bellezza, quindi parliamo prima, dai, delle emozioni adesso a caldo, sei appena sceso da Ducati, una gioia incredibile. Il leitmotiv di quest'anno è sempre un po' il rosicare perché non mi godo le cose, cioè metto sempre l'asticella troppo in alto e finché non arrivo a quella roba lì non godo e quasi mi sento di dire che è un sollievo più che una felicità, no? Oh, l'ho fatto! Però adesso cerco di mettere insieme i pezzi, di capire un attimino che comunque abbiamo fatto qualcosa di veramente importante. Oggi c'era anche Luigi con DVM Racing, campione italiano S2 del 2022 se non sbaglio, veramente forte, è stata una lotta incredibile. c'era Maurizio, cioè il livello era altissimo e abbiamo alzato tutti l'asticella in una maniera pazzesca e soprattutto vincere il campionato così dove non potevo sbagliare, ero sempre sul filo del rasoio, tocchi la chicane, non tocchi la chicane, poi ieri sera abbiamo parlato io e te un po' di cosa succederà, cosa non succederà. Alla fine sono arrivato a 4 decimi da quel tempo di cui parlavamo, che era una roba che dici no, è impossibile, no? E grazie al team perché mi ha, ripeto, ero rimasto un po' plafonato su quell'1,6, 1,6 e mezzo, hanno fatto quella mossa lì, abbiamo deciso insieme proprio nel momento un po' più critico, dove si stava più comodi no, nelle cose che conoscevamo, bam, prima salita, un secondo in meno, abbiamo detto ok, abbiamo fatto la scelta giusta e li ringrazio perché mi hanno anche un po' spinto l'ora a dire dai, facciamola. E' vero, ieri sera parlavamo io e Luca del tempo che si sarebbe potuto fare, io pensavo ci fosse nell'area un 4 alto, in realtà pensavo che Mauri avvesse qualche cartucci più, poi te ne sei uscito tu con un 5-4, comunque incredibile, ma soprattutto parlavamo perché primo anno alla salita, metti croce, campionato vinto, lo si può archiviare questo capitolo della tua carriera che dopo magari tornerai a fare qualche wildcard, però l'obiettivo di inizio anno che magari hai più poteva sembrare difficile da raggiungere, l'hai centrato con diversi assoluti, vincendo praticamente tutte le mangi della Super Open 1000, bello. All'inizio era un ti massacreranno perché non è esperienza, poi era un vai a rubare le caramelle, quindi bisogna un attimino decidere. Vabbè, comunque giusto per mettere i puntini su lei, per me è stato qualcosa di incredibile perché alzare l'asticella così e come tu ben sai l'ho lanciata al venerdì, quindi io metto sempre tutto me stesso e se non fai così non riesci ad essere sul pezzo con i campioni che sono qui, come Maurizio, appunto come Luigi che c'era oggi e c'è anche questo rischio qua e ho spinto veramente al massimo. Dorniamo un po' se indietro, il weekend era Bottalico versus Salvadori. Allora, cronometricamente esci vincitore, possiamo adesso dirlo, facciamo una veloce disamina su questi tempi, l'ha girato in sei, Maurizio, la prima mancia ha fatto l'ora l'ha fatto sette, tu hai sbattuto lì un tempo pazzesco perché è il nuovo record, come la chiudiamo questa simpatica perché è sempre stata molto giocosa, Querel, Salvadori, Bottalico. No, io gliel'ho detto anche Su, quindi lo sa, a parità di condizioni secondo me ce la saremmo giocata all'ultimo esattamente come a Volterra, però appunto io avevo un po' di inesperienza su questa strada, ho perso qualcosa sul discorso delle varianti perché non volevo rischiare per il campionato quindi le giravo proprio a casa di quella signora là e ti dirò, ancora non si sa perché non sai quanto c'era, quanto non c'era, posso dire che secondo me se fossimo stati a parità di gomme sarebbe stata di sicuro più vicina. Ma secondo me ce la toglieremo proprio questa cosiddetta di parità, almeno di gomme. Magari alla Northwest l'anno prossimo perché è qualcosa che vorrei proprio fare della cosa un po' più semplice dell'Isola di Man. Lui è il mago dello spoiler perché adesso lo giriamo e nella maglietta dietro c'ha l'idro che ti va e adesso lo facciamo. Gli step, il problema qual è? Che abbiamo così buttato giù qualche cifra a capire l'Isola di Man fatta bene per non rischiare di ammazzarsi, che già il rischio c'è, ci vuole quasi un budget di un campionato quindi il gioco non direi che vale la candela, arriva il nostro fantomatico amico Sheikko ci dice oh 200 capo per andare a fare l'Isola di Man, oh stanno già lì. Vai 250 e andiamo. Esatto, però ci sono degli step prima che sono quelli che ho... Aspetta che li guardo, abbiamo i RRC Northwest e Isle Man of TT che è l'ultima, la prima quindi è l'IRRC più abbordabile. Più abbordabile sì, qualche gara è un po' più pistaiola ma tipo Orizze e tutte quelle gare lì mi hanno detto che è un'Isola di Man in miniatura e anche lì dovrò prepararla molto bene, infatti non voglio neanche mettere troppa carne al fuoco perché ci saranno da fare due Orizze l'anno prossimo, una per prepararsi, la 300 curve e la gara dell'RRC. Poi ci sarà la Northwest in caso, anche quella si riesca a fare con Superbike fatta bene come Cristo Comando. Quella è l'ennesima sfida perché lì si parte, magari un turistano si parte in gruppo, quindi è l'ennesima sfida. Sì, come l'IRRC anche l'IRRC si parla in gruppo. Però al Northwest sono un po' più cattivi. Sì, al Northwest sono un po' più cattivi e poi magari una tappettina a Volterra che ci manca come record e buttarla anche lì non sarebbe male. Senti, ultima cosa, chi la dedica? Chi lo dedica questo campionato, questa vittoria? Poi c'è ancora il National, però intanto questo è a casa. Lo dedico al team perché ha fatto veramente un lavoro incredibile. Con Luca mi trovo veramente bene. e più che una persona lo dedico a tutti quelli che nel backstage, può sembrare che tutte le rotture di minca che ci sono facciano un qualcosa, però comunque nel momento in cui da una parte c'è chi ti sostiene, oggi è stata una roba incredibile, non ho mai visto così tanto pubblico, ma anche dall'altra c'hai delle situazioni che dici, ci devi pensare. Tu devi avere una grossa forza di volontà, ma chi c'è dietro le quinte che ti sostiene e che non ti fa perdere il focus in quei momenti dove è difficile, lo ringrazio tanto. È il momento commozione a fine anno. Bravo Luca! Grazie, ciao! Grazie a tutti. Davide Lignite e Salvo Sallustro. Vabbè, nell'Europeo 600.000 portate a casa le vittorie qui a Spoleto. Io inizierò... No, ma ho già parlato con Luca in realtà, quindi c'ho già... Partiamo da, l'ho definita la cherele scherzosa, no? Prima di questo evento che ha creato molta suspense, ha portato un sacco di zete a Spoleto. È finita con un tempone di Luca e un tempo... Adesso poi ci spiegherai tu perché hai fatto un errore in prima gara. In seconda gara cosa non ha funzionato? Quanto potevi spingere ancora di più? Ti dico già che Salvadori ha detto, ma... Se noi corressimo in condizioni tecniche simili, ce la batteremmo veramente decimo a decimo. Non c'è quello che sapete? Allora, in realtà, per quanto ho avuto un problema in gara 1, però sono contento perché alla fine su due manche disputate abbiamo fatto 1-1. Quindi questa mitica sfida che abbiamo portato a Spoleto è finita 1-1 perché lui si è giudicato gara 1 con un super tempone e io mi sono giudicato gara 2. Peccato per gara 1 perché sicuramente sarei riuscito a fare molto bene e forse a dargli anche fastidio in quel tempone. Perché nel tornante qui a sinistra dopo la stazione, seconda prima è entrata in folle la moto e ho rischiato veramente di andare addosso alla gente perché la moto è andata proprio lunga. Abbiamo visto dalla telemetria che è rimasta 2 secondi in folle e è stata abbastanza dura. Poi sono riuscito a rientrare per fortuna, nel primo destra ho chiuso un po' troppo, sono andato col ginocchio sul cemento e non più sull'asfalto, mi si è agganciato lì e ho perso la saponetta. Quindi ho fatto il resto della salita nelle curve a destra comunque abbastanza penalizzato ed è uscito un tempo alto, un tempo che comunque alla fine non era mio. Faccio i miei complimenti a Luca perché veramente è andato forte, ha fatto un bellissimo tempo e ti ripeto sono contento perché alla fine comunque in gara 2 sono riuscito a vincere. No, però non si possono dire le parolacce. No, come puoi dirle? No, 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 non le dico. Allora, guarda, sono contento in primis che non è successo niente perché lì se sbattevo, sbattevo forte. Perché entrare in folle non è mai bello. Quindi la prima cosa è che sono contento è che sono riuscito a recuperare la moto. Sono contento anche per il team perché comunque alla fine all'attivo noi abbiamo soltanto due uscite, quella di Yulba che è questa. Non abbiamo fatto test in pista, niente. Quindi la moto ancora non è mia. Loro ancora non riescono a capire bene cosa mi serve a me. Quindi stiamo crescendo man mano e siamo molto, molto, molto contenti del lavoro fatto. Devo dire che con Luca avremmo trovato noi il campo di battaglia ideale per vedere una bella sfida. L'SH non sarebbe male. Però tipo no, una Northwest. Anche se lì, lo sappiamo, ci sono un po' di intrusi perché è una gara con lo schieramento. Però no, adesso scherzando si dice ci saranno ancora sicuramente delle occasioni per vedervi correre nella stessa categoria o comunque nello stesso ambiente e vedere gustarci questa sfida. Che diciamocelo, a passione fa bene a questo sport. Ma guarda, in primis ti devo dire che sono molto contento di averci avuto a che fare con Luca, al di là del pilota. Anche come persona perché nei retroscena, nei dietro le quinte, come si suol dire, abbiamo parlato molto anche a livello personale e ho capito tante cose anche del suo ruolo. Quindi, ti ripeto, mi ha fatto piacere che c'è stato questo confronto, sfida, confronto, chiamiamola come vogliamo. Perché realmente sono riuscito ad apprezzare comunque tanti lati suoi che delle volte non si riescono a capire attraverso un social. Per cui, ti ripeto, sono molto soddisfatto. Per la North West io già l'avrei dovuta fare quest'anno, poi per via dell'infortunio no. Magari, non lo so, ci ritroveremo lì l'anno prossimo insieme e sicuramente sarò ben lieto di poter fare una nuova sfida con lui. Purtroppo, e chiudo dicendo che nonostante la doppia vittoria che ha ottenuto, 600.000 all'europeo, la classifica non ti è tanta mica perché il doppio zero iniziale di inizio stagione, quando hai avuto il problema, e con pochi partecipanti che possono rubare i fattici punti, direi che purtroppo quest'anno potrebbero svanire le possibilità di vittoria nel continentale. Allora, lo sapevamo dall'inizio perché comunque le gare sono poche, sono soltanto quattro gare e fare due zeri è praticamente un bel problema. Però io in primis ci ho creduto perché ho cercato di recuperare dall'infortunio il prima possibile. Il team, sia il team TCF che MotoZoo, hanno creduto in me e quindi abbiamo provato e stiamo provando a metterci una pezza. Non è ancora detta perché la matematica non... La matematica non ti condanna, no, no. Però sarà molto dura, io ci proverò fino alla fine. E poi il prossimo appuntamento importante, quello importante è vero, è chiaramente l'Igela di Mann, a fine agosto dove, lo ricordiamo, l'anno scorso, podio, terzo posto, parti il carico come una molla. Ah sì, assolutamente sì. L'obiettivo prioritario di questa stagione sicuramente è il Manx per cercare di fare un qualcosa davvero di importante. Mi sento abbastanza bene in moto, dobbiamo solo vedere adesso sulla durata più che altro, perché fare una gara di due chilometri, due chilometri e mezzo è un conto, farne 60 è un altro. Però sto continuando a lavorare duro e sodo perché voglio tornare da lì con un bel ricordo per te. Allora, sempre forza botali con l'Isola di Manta. Ciao Mauri, bravo. Ciao Phil, ciao a tutti. La 250 GP è andata al Belga de Pierrot, con al secondo posto l'italiano Roberto della Latta. La 300 ha visto il trionfo in gara e in campionato di Daniele Stolli, sul podio con lui Marco Vigilucci e Stefano Leone. Un altro pilota italiano ha trionfato a Spoleto, stiamo parlando di Salvatore Sallustro, che ha dominato la supermoto precedendo Ehrman e Bongard. Chiudiamo con l'epoca dell'europeo, dove nella classe 6, 500 e 9B si sono registrati i successi di Alonfi, Cavanna e Winkelmüller. Chiusa la parentesi spoletina, ora il virus Powell CUS si prende quasi due mesi di ferie, preparandosi così al gran finale previsto per il 14-15 settembre a Volterra.